a natale non si fanno cattivi pensieri ma solo chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno a tutti loro auguro di vivere un natale in compagnia un pensiero lo rivolgo a tutti quelli che soffrono per una malattia a coloro auguro un natale di speranza e di letizia ma quelli che in questo giorno hanno un posto privilegiato nel mio cuore sono i piccoli mocciosi che vedono il natale attraverso le confezioni dei regali agli adulti auguro di esaudire tutte le loro prospettive per i bambini poveri che non vivono nel paese dei balocchi auguro che il natale porti una famiglia che li adotti per farli uscire dalla loro condizione fatta di miseria e disperazione a tutti voi auguro un natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati